ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina oggi andrò a preparare un secondo che io amo moltissimo andrò a fare le quaglie con patate al forno andiamo a vedere cosa ci servirà per questa ricetta ci serviranno due chili di patate che io già ho pelato e messo in acqua fredda 8 quaglie sale olio e rosmarino per prima cosa ci occupiamo delle patate quindi li dobbiamo tagliare a tocchetti in questo modo li rimettiamo di nuovo dentro l'acqua dopo averle tagliate tutte come potete notare l'acqua si presenta torbida allora noi dobbiamo andare a lavare a sciacquare le patate fino a quando l'acqua non ritorna a essere limpida adesso che le patate hanno perso il loro amido andiamo a condirle quindi mettiamo dell'olio di di oliva sale e il rosmarino gli aghi andiamo a mescolare con le mani mettiamo anche un po' di aromi per patate e adesso mettiamo un attimo da parte e ci occupiamo della carne dopo aver pulito le quaglie tolto tutte le interiora le pinne andiamo a mettere del sale mescoliamo anche qui mettiamo degli aghi di rosmarino per dare il profumo e adesso passiamo tutto dentro le patate diamo sempre una bella mescolata con le mani e adesso possiamo andare a trasferire tutto dentro una pirofila di vetro diamo una sistemata mettiamo sopra due rametti di rosmarino andiamo a infornare a 180 gradi forno vendilato per 30 40 minuti sono trascorsi 45 minuti le quaglie con le patate sono cotte adesso li tiro fuori dal forno e le quaglie con le patate sono pronti se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al mio canale condividete inoltre vi ricordo che se toccate la campanellina sotto a destra potete restare aggiornati su tutti i video che andrò a pubblicare durante la settimana vi invito anche a iscrivervi al mio gruppo facebook e di seguirmi sul mio instagram vi lascio sotto in descrizione i link grazie un bacione a tutti e alla prossima video ricetta ciao 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 ciao